Grazie, grazie. Grazie. Ed è un nulla assoluto perché la ricostruzione è stato slogan assai utilizzato, mai praticato. I miliardi di aiuti annunciati non sono arrivati, salvo pochi spiccioli. Mai come ora nella lunga storia dei terremoti italiani si è vista una presenza così rarefatta dello Stato e un immobilismo come quello plasticamente fotografato dalle immagini girate. Non è stato fatto nulla. Com'è tutto maceri qui, totali maceri. Questa era la fine della città, là c'era la basilica esagonale che è venuta totalmente giù e poi ci sono ancora dei ruderi, la torre di Amatrice che è rimasta in piedi ed è messa in sicurezza. Però come vedete le macerie non sono state ancora toccate, sostanzialmente sono tutte qui. Questa è la strada centrale di Amatrice che non c'è più. Qualche abitazione è stata rimessa su, qualche pezzetto in sicurezza e quel che è venuto giù, giù resta. Salvo la torre che ha resistito e che è stata messa come vedete in sicurezza. Salvo la torre che è stata messa come vedete in sicurezza. Salvo la torre che è stata messa come vedete in sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.